salve a tutti oggi vi presento questa magnifica replica revolver della marca marushin speciale molto speciale per la sua incredibile particolare particolarità e come sempre come tutte le mie armi soft air presentano i particolari salienti delle sorelle vere questa vedete ai loghi incisi 44 magnum smith e wesson ritroviamo di seguito i loghi smith e wesson originali come potete vedere la pistola sembra sembra ma non lo è sembra in full metal per la particolarità della lavorazione stessa nell'arma in abs molto particolare opaco sembra sembra metallo ma non lo è passiamo alla funzionalità dell'arma abbiamo il carrello il tamburo qua c'è una leva come nella vera la spingiamo in avanti e estraiamo il tamburo dalla sua sede dove ci sono i bossoli naturalmente estraibili dove vanno caricati le munizioni nell'apposito foro vanno caricati proprio come nell'arma vera questa pistola come ogni revolver naturalmente è in singola azione e in doppia azione ragazzi vi assicuro che naturalmente un pezzo introvabile perché la maruchin non la riproduce più molto particolare molto robusta ben fatta direi una replica che non ha niente a che invidiare ad altre armi soprattutto nella sua dicevo prima nella sua particolarità che la rende unica veramente un revolver molto ben fatto funzionale vedete i particolari non mancano che dire vi saluto vi ringrazio ciao vi saluto vi ringrazio